A Balme è stato ritrovato il cosiddetto altare druidico chiediamo al sindaco da quanto tempo si conosce questo ritrovamento? Diciamo che l'altare che oggi definiamo druidico esiste da un tempo immemorabile sicuramente i balmesi sapevano della sua presenza senza saperne datare con certezza la nascita e la provenienza e la provenienza e la provenienza e la provenienza